Carissimi amici e amiche, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al peccato originale, l'origine di ogni male che oggi raggiunge una nuova di ulteriore tappa prima della conclusione, cioè cercare di andare a provare, ad immaginare come poteva essere la vita e l'amore tra i due primi prima del peccato originale, quindi come avrebbe potuto essere la vita tra noi figli di Dio se il peccato originale non ci fosse stato. Allora per fare questo salto ci aiuteremo principalmente di un testo molto bello che cominceremo un po' questa sera evidentemente stralci e brani scelti perché altrimenti questo ciclo di catechesi non finirebbe più, che è appunto al di là dello spazio e del tempo il libro di Lene Ramate che adesso presenterò brevemente e poi andremo a vedere qualcosa, di Riccardo Perez Hernandez, traduzione italiana, cura di Don Pablo Martin, nome già per molti credo che non sia nuovo, proprio Martin uno dei massimi esperti in Italia e non solo in Italia ma anche oltre, dell'opera della serva di Dio Luisa Piccarreta, i 36 volumi del Libro di Cielo che narrano il dono della Divina Volontà che non è altro che la possibilità per l'uomo, questo è quello che rivela il Signore, di poter vivere in pienezza ciò che da due mila anni chiediamo nel Padre Nostro, che venga al suo regno e che sia fatta la sua volontà come in cielo o così in terra e quando questo accadrà la condizione perduta dai nostri progenitori, sarà sostanzialmente, evidentemente non proprio integralmente al 100% ripristinata tra gli esseri umani, cosa che è stata già vissuta come pioniera, come antesignana, prima tra le creature umane, dopo evidentemente Maria Santissima, dalla destinata è la stessa di questi scritti che era serva di Dio Luisa Piccarreta, a cui chiaramente bisognerà fare un piccolo riferimento, ovviamente. Volendo chiudere completamente il discorso della puntata precedente, volevo, casomai poi li riprenderemo, in questi giorni mi è capitato sotto gli occhi, proprio nella dimensione dell'importanza di una sostanziale fedeltà alla lettera del testo biblico e quindi soprattutto ai protagonisti del problema peccato originale, cioè il diavolo, Eva e Adamo. Questa è la logica. voglio leggere un passaggio molto illuminante di un'opera fondamentale di Sant'Agostino. L'opera è il trattato sul simbolo ai catecomeni, libro terzo capitolo 4. Ricordiamo che Sant'Agostino tra l'altro era anche il maturo Sant'Agostino possibilista, anche circa ipotesi che la grande maggioranza dei padri aveva scartato, compresa quella che la riproduzione sessuale sarebbe comunque stata quella che conosciamo anche senza il peccato originale. Sentite che dice Sant'Agostino a proposito di questi parallelismi, soprattutto il parallelismo Eva e la nuova Eva. Fa comprendere come Eva debba essere necessariamente una persona reale e coinvolta e come nel peccato originale. Cito e poi passiamo al tema di oggi. Per femminam mors, per femminam vita, lo leggo prima in latino, tanto è breve e anche abbastanza comprensibile. Per evam interitus, per mariam salus, illa corrupta sedu, secuta est seductorem, hec integrape perit salvatorem, illa poculuma serpente per il mererento occidi, hec, grazie a celestite superdinfusa, vitam protulit perquam caro mortua possit resuscitare. Per femminam mors, per femminam vita, da una donna è derivata la morte, da una donna c'è venuta la vita. Da una donna è derivata la morte, da una donna c'è venuta la vita. Per evam interitus, per mariam salus, da Eva la rovina, da Maria la salvezza. illa, quindi Eva la prima, corrupta, secuta est seductorem, la prima lasciandosi corrompere, seguì il seduttore, il diavolo, il grande assente nelle opere che abbiamo citato nelle puntate precedenti. hec integrape perit salvatorem, questa, la seconda, integra, genera il salvatore. e attenzione qui, ill'apoculum a serpente propinato un libente raccepit et virotradidit, ex quo, ex quo simul mererentur occidi. Quella volentieri accettò la coppa avvenenata che il serpente le aveva offerto e la offrì al suo sposo. Scritto testualmente, mangia dell'albero e lo presenta e lo diede ad Adamo. Per la qualcosa insieme meritarono la morte, ex quo simul mererentur occidi. Per la qualcosa insieme, lui e lei. Hec, grazie celesti di superinfusa, questa, quella grazie celesti infusare dall'alto, vitam protulit, perquan caro morto a possi tre suscitari. Si capisce? Morto alla vita. Per la quale la carne morta possa essere risuscitata. E questo è Sant'Agostino di Pona, insomma, non certamente l'ultima dica, ma quello che scrive è proprio la quintessenza di ciò che è proprio da sempre stato pacifico ovunque, in tutti gli autori. Quindi, contraddire una cosa di questo genere significa non soltanto rendere problematico il dato biblico, ma anche andare contro una tradizione costante di duemila anni di storia della Chiesa. Va bene, detto questo, andiamo da tenera amata. Che cos'è questo testo? Allora, questo testo è un'altra rivelazione privata. Non voglio fare l'alcollage delle rivelazioni private, però l'argomento che stiamo trattando, come ci siamo sempre detti, non è altro che un tentativo di focalizzare una verità di fede che è comunque definita nella sua essenza e sostanza. Quindi l'ambito proprio delle rivelazioni private è sempre quello di una delucidazione, una particola, un fornire qualche particolare, evidentemente non assolutamente necessario, perché altrimenti sarebbe stato pubblicamente rivelato, alla rivelazione. Perché? Per ravvivare la fede, per alimentare la speranza, per infuocare la carità. Ah, quindi, tutto qui. Ora, in questo contesto si colloca anche il testo che stiamo analizzando. Qual è il punto? Perché questa sezione? Perché ci siamo detti, e questo sono d'accordo alla maggioranza dei pari della Chiesa, che la condizione primordiale dell'uomo era una condizione di amore virginale. Ora dobbiamo fare attenzione, amici miei, perché il modo con cui oggi noi concepiamo l'amore virginale, nello stato di natura decaduta, sì, per certi aspetti è bello. Quindi è bello, soprattutto per quello che riguarda, come dire, quando un vergine o una vergine è degna di questo nome, è bello perciò per gli orizzonti che aprono nel rapporto intimo diretto con Dio. Perché il vergine e la vergine, sotto questo punto di vista, se sono degni di questo nome, perché non basta la verginezza del corpo, perché anche chi non trova obtorto collo marito potrebbe essere vergine nel corpo, e viceversa, chi non trova moglie. Ma quella verginezza non è ipso facto, come dire, potrebbe essere vissuta anche come un incubo, diciamo così, quindi come una cosa brutta. Quindi, quando si è vergine nel corpo e nello spirito, ordinariamente il rapporto con Dio decolla, insomma, plana, vola. Però che succede? Succede che in questa vita i rapporti comunque con il prossimo sono inibiti. Sono inibiti perché anche un contatto, un rapporto, diciamo così, pulito, facilissimamente si presta alla degenerazione e non può comunque essere controllato. D'accordo? Purtroppo. Ecco perché una santa come Santa Teresa Davida, per esempio, diceva amicizia spirituale tra un uomo e una donna? Sì, c'è stato qualche caso, più di qualche caso nella storia della Chiesa. Lei però diceva, però con un muro di cemento armato davanti. Purtroppo. Ora però, l'amore virginale di Adamo ed Eva, e questo aiuta molto anche a comprenderlo, la rivelazione fatta da Gesù, la serva di Dio, Luisa Piccarreta, non concepiamolo assolutamente come un amore, come uno stato dove c'era il platonismo allo stato puro, quindi c'erano semplicemente le anime e non c'era corporeità, non c'era manifestazione concreta dell'amore. Possiamo e dobbiamo pensare che non fosse così. Allora, e qui si colloca il libro di Tenera Mare. Allora, breve presentazione. È una rivelazione privata, come ho detto. L'autore, Riccardo Perez Hernández, è un, dovrebbe essere un astrofisico, adesso messicano, quindi l'ambientazione di questo luogo, di questa storia è messico. Un credente che aveva chiesto al Signore tante volte, però dammi qualche input perché la mia fede possa diventare più forte, più viva. E questo testo in realtà, come poi la protagonista che vedremo si autoappella a Tenera Mata, lei gli rivece, ti ricordi la preghiera che ha fatto al Signore? Ecco, io sono con lei che te la esaudisce, d'accordo? Perché attraverso le cose che ti dirò la tua fede uscirà molto rinvigorita. Come si snoda quest'opera? Che a un certo punto, un giorno, questo Signore stava alla pranzo della sua casa, con la sigaretta accesa e vedendo la televisione, a un certo punto le compare vicino una ragazza molto bella, ma a lui completamente ignota. Questa ragazza gradualmente si rivela e si rivela semplicemente essere addirittura, pensate, una ragazza che quest'uomo nella vita aveva visto una volta, quando lui era piccino, piccino nel senso di adolescente o preadolescente, si trovava in una casa X e c'era una persona che suonava il piano e questa ragazza cantava una canzoncina, mi ricordo il titolo, la pajarera in spagnolo, l'uccelliera sarebbe insomma in italiano, e mentre questa ragazza cantava, questo ragazzino, più grande di lei, questo ragazzino cominciò a sentire come dire le prime risonanze interiori dell'amore, quindi ciò che tutti quanti noi credo, insomma, nella preadolescenza o nell'adolescenza, si sveglia un pochino, quindi l'attrazione, l'attrazione d'amore verso una persona di sesso differente, così è ordinariamente, insomma, oggi dobbiamo stare attenti a tutte le cose che si dicono, e che risveglia quello che nel cuore si chiama l'amore, ma niente di più, d'accordo? in maniera molto molto innocente, dopodiché questo non l'ha più vista, quando questa donna si rivela essere questo, lui rimane un attimo e dice, ma ah sì sì, c'era un ricordo come dire abbastanza ancestrale, e dice, e te che sei andato a fare? Ma perché io sono uno dei tanti amori che il nostro Signore ha stabilito che tu debba avere nell'altra vita, e sono venuto a raccontarti un pochino di cose dell'al di là, ecco perché è al di là dello spazio del tempo. Il racconto di Tene la Mata è molto ampio, perché è bellissimo, sono tante pagine, per chi vuole il testo, dico subito così, il testo si chiama Al di là dello spazio del tempo, il libro di Tene la Mata, l'autore è Riccardo Perez Hernandez, e il testo si trova in versione cartacea o digitale su Amazon, per chi vuole acquisto facile, diciamo così, no? Si troverà sicuramente in giro anche da qualche altra parte, lungi da me, vorrei andare a fare la pubblicità ad Amazon, però, ecco, siccome non vorrei poi che mi ribombardassero i mail, già mi sono detto una marea per certe motivazioni, per queste altre, no? Il testo è fruibile e leggibile. Tene la Mata gli dice un sacco di cose, tante, le rivelazioni principali di questo testo sono fondamentalmente la quinta dimensione, non ci si stupisca del nome, o l'eternità creata, concetto che, ecco perché l'ha tradotto Don Pablo Martini, è realtà più che concetto, che non è tanto difficile comprendere alla luce della Divina Volontà. Praticamente quello che questa ragazza, poi cresciuta, spiega a quest'uomo, è che tutto quello che noi facciamo, momento dopo momento, quindi il modo con cui si estrinseca la storia di ciascuno di noi, unitamente evidentemente alla storia del mondo, va a comporre una realtà, evidentemente, che noi percepiamo come passato, quindi quello che è successo ieri, ormai è successo ieri, te saluto, è finito, non lo rivedrò mai più. Tene la Mata dice non è così, perché quando la persona muore, tutto quello che è stato e che costituisce appunto la quinta dimensione, ossia l'eternità creata, per distinguere dall'eternità increata, che è quella dove vive evidentemente la dimensione in cui vive l'Altissima e l'Onnipotente, rimane in atto e può e deve non soltanto essere completamente rivissuta, anche nella sua corporeità dalla persona, ma evidentemente in uno stato di condizione differente, perché quando si è glorificati si può rivivere il tutto, ma in maniera molto molto più bella, e soprattutto senza i limiti connessi alla nostra attuale condizione umana. Tene la Mata perché? Perché la prima cosa, tra le prime cose che questa ragazza rivela al suo interlocutore, che a un certo punto gli dice, ma tu come ti chiami? Dice, il mio nome sulla Terra non ha più tanta importanza. Adesso ha importanza il mio nome nuovo, libro dell'Apocalisse, al vincitore darò la mano nascosta, è un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Dice, però il nome nuovo non te lo posso dire, perché solo a sentirlo moriresti di gioia, proveresti una felicità talmente grande che in questa Terra non la potresti reggere e moriresti seduta stante. Dice, non te lo posso dire. Comunque, se vogliamo trovare una similitudine, dice, quello che si avvicina un pochino al mio nome nuovo è Tene la Mata. Il nome nuovo, attenzione, designa quella, la nostra personalità profonda, potremmo chiamarla così, cioè la nostra sfumatura, la nostra caratteristica peculiare, particolare con cui Dio ci ha creati e che determina il peculiare tipo di rapporto di amore che anzitutto la persona ha con l'Altissimo e che è unico ed irriperibile. Cioè il rapporto che Gesù ha con me, la Santissima Trinità ha con me, che Dio ha con me, sotto certi punti di vista, come dire, è analogo a quello che ha con tutte le creature, perché è un rapporto fondamentalmente di amore. Ma come Dio ama me e come io amo Lui adesso e come lo amerò, spero, nell'eternità, non lo amerà nessuno. Cioè il rapporto tuo o mio con Dio è unico. Il nome nuovo lo estrinsecherà. Che cosa si è inventato nostro Signore creando te? Ecco perché siamo così preziosi davanti ai suoi occhi. Ogni persona umana è un prodigio semplicemente per il fatto di essere una persona umana. Ed ecco perché la dannazione è veramente una tragedia. Pensate che i dannati, se il loro nome nuovo non lo conosceranno mai, non sapranno mai chi erano. Sarà forse un motivo questo qui, uno dei motivi per cui il famoso ricco Epulone della parabola del povero Lazzaro, Epulone in realtà è il suo pronome, ma è l'innominato, non ha nome. Incredibile, non ha nome. Non hanno nome. Hanno fallito il progetto dei progetti, fallito lo scopo per cui sono stati creati. Quindi il nome nuovo non lo conosco. Ora, insieme a tutto il discorso sull'eternità creata, con tantissime altre cose, il discorso principale e quello che più interessa a noi di cui si trate questo libro è la gloria accidentale, cioè i rapporti d'amore che intercorrono tra i beati. Adesso comincio la lettura, nel senso, in Paradiso, questo la Chiesa l'ha sempre insegnato, ci sono due forme di beatitudine. La prima è la visione beatifica. Dice Terna Armata, questa non te la posso raccontare, perché nessuno in questa terra può non soltanto vedere Dio e rimanere vivo, ma anche conoscere o comprendere zero di quello che costituisce l'eterna beatitudine. Non lo puoi comprendere. Eterna beatitudine che è uguale per tutti, perché tutti vedranno Dio, ma con tassi di gloria differenti. Terna Armata dice di essere un'anima che stava molto bassa in Paradiso. Eppure, insomma, pur essendo molto bassa, queste cose che raccontano, questa è una che sta in basso, figuriamoci chi sta in alto, no? Però oltre alla gloria essenziale c'è anche la gloria che la Chiesa ha sempre chiamato accidentale, cioè non ciò che dipende dal godimento della visione beatifica, ma ciò che dipende da altri godimenti accessori che il Signore concede ai suoi beati, sempre in misura proporzionata ai loro meriti, tra cui la possibilità di vivere infinite forme di amore verso le altre creature, anzitutto umane, ma anche non solo. Qui comincio la citazione, siamo non molto avanti, abbastanza all'inizio, la prima citazione, a pagina 10. Così cominciamo a renderci conto, per chi non conosce il testo, di che cosa stiamo parlando. Chiaramente il testo si svolge tutto quanto in una forma dialogica, che è quindi un botta e risposta tra l'astrofisico che fa le domande e quest'anima beata, possiamo chiamarla anche così, che risponde alle sue domande. Che cosa fanno i beati in cielo? Dice lui. Amare il nostro Dio, godere il suo amore e il suo potere, amare tutti gli esseri dell'universo e godere insieme con loro, fino al limite del grado di gloria raggiunto su questa terra. Risposta. Cercherò di dimostrarti più avanti, attenzione, la dilettevole compenetrazione fisico-spirituale tra i glorificati affini, che supera immensamente, attenzione, in intensità, durata, qualità e modo, il migliore dei piaceri della terra. Ripeto, dilettevole compenetrazione fisico-spirituale tra i glorificati affini. Questo non c'è niente a che fare però con il sesso, mi si perdoni insomma il termine esplicito, dopo glielo dice questa cosa in paradiso. Se glielo avessi detto altro sarebbe falsa la liberazione, perché questo ce l'ha già detto il nostro Signore nel Vangelo. Però l'assenza della dimensione sessuale in paradiso non significa che questi non si amano e non si amano anche a livello molto fisico. perché l'eternità creata, questo facciamo uno sforzo per comprendere, è necessariamente corporea. Io adesso qui, ci sto con la mia carne e con le mie ossa, è certo che, come dire, il tempo che va dalla morte in avanti non è un tempo, come dire, vissuto nella corporeità, perché c'è comunque una condizione cadaverica, ma tutto quanto l'eternità creata che viene ante, è tutto quanto è vissuta nella corporeità. E tutto questo nella risurrezione della carne poi ci avrà, come dire, la massima espansione possibile, no? Devi sapere che l'eterna beatitudine ha due aspetti, il godimento diretto del Creatore e il godimento dei beni da Lui creati. La prima cosa, la visione e il possesso diretto del nostro Dio per amore viene chiamata la gloria essenziale, perché è la migliore. La seconda, i piaceri e i godimenti che nel cielo ci procura l'universo creato, costituisce la gloria accidentale. In questo colloquio parleremo soltanto della gloria accidentale, che era minore. Lasceremo per un'altra occasione la gloria essenziale. Adesso lo dice così, però la gloria essenziale altrove fa comprendere che molto, molto limitatamente potrebbe essere spiegata ad un povero mortale. Come è il cielo? Il cielo è la beatitudine, cioè la piena felicità e il godimento con le lodi. Non si tratta di un recinto speciale, come una specie di grande cattedrale o di enorme stadio, no. Il cielo consiste nella felicità immensa dei beati. Il cielo è tutto il cosmo, ammirabilmente strutturato dal nostro Dio per procurarci un'infinità di vivissime gioie e piaceri. Attenzione, eh. Ammirabilmente strutturato dal nostro Dio per procurarci un'infinità di vivissime gioie e piaceri. Ad esempio, in questo momento il mio cielo è in questa stanza della tua casa, perché adesso è qui, sto godendo la gloria che mi diede l'Altissimo. La felicità la celeste la porto con me dovunque io mi trovi. Come vedi nella patria, tutto è amore e gaudio, attenzione, e qualcosa di simile dovrebbe accadere tra i mortali. Cioè tutto amore e gaudio. Domanda. E perché non accade? Perché no? Risposta. Per colpa del peccato, l'originale per primo, e poi il peccato personale attuale che si aggiunge a quello, si intreccia e complica fino a formare il tremendo peccato del mondo. Il male morale ha sconvolto i piani divini. Non dico che li abbia nullificati, ma che li complica e ritarda e converte in dolore ciò che dovrebbe essere gaudio. Adesso c'è... Lo leggo, anche se l'ho già introdotto, perché ho... Qual è il tuo nome? Le chiesi con curiosità. Il mio nome sulla terra ormai non ha importanza. Il mio nome nuovo nel cielo è confidenziale, perché devi sapere che il nostro Dio, nel glorificarci, rivela segretamente, segretamente ad ogni beato, il suo nome nuovo. Infatti nell'Apocalisse c'è scritto che nessuno lo conosce se non chi lo diceva. Cioè il nome che esprime con esattezza il modo di essere preciso e individuale di ciascuno. Il nome nuovo spiega chiaramente la personalità esclusiva e la particolare funzione di felicità che ognuno dovrà godere nel cielo. È la definizione esatta di ogni beato glorificato. È la rivelazione luminosa della sua vocazione terrestre e celeste. Non può immaginare con quale giubilo e riconoscenza il beato glorificato accoglie il suo nome nuovo. Conosce allora l'essenza della sua personalità e vede che si addice esattamente alla sua eterna vocazione di gioia e piaceri. Il nome nuovo è un segreto perché si riferisce, attenzione, soprattutto alla gloria essenziale che si va a godere direttamente con il nostro Dio, cioè a rapporto con Lui. Perché concerne le sottili caratteristiche o sfumature particolari d'amore con cui eternamente si amerano l'altissimo e il neoglorificato. Include il principale godimento che questo beato riceverà dall'intero universo come pure quel godimento che in cambio lui darà al resto del cosmo. Ma è anche un segreto in questa vita a causa del peccato che oscura ogni cosa. Non vorresti rivelarmi il tuo nome nuovo, dice subito, impossibile. Ti ucciderebbe di gioia. Qualsiasi nozione rigorosamente celeste causa un gaudio incompatibile con la vita terrestre. Capite la condizione in cui stiamo? L'interdizione oggettiva. Potresti tuttavia chiamarmi tenera amata. Credo che sia la parola di questo mondo che più si avvicina al mio nome nuovo, già che possiedo una remotissima partecipazione della tenerezza divina. Ecco, già questo primo stralcio è molto importante. Abbiamo visto alcuni dati fondamentali che già sono però, ecco, abbastanza sintomatici. la condizione che ci attende e come il peccato originale e il peccato attuale ha stravolto tutto, non distrutto evidentemente, ma ha stravolto, ritardato i piani divini, ci ha interdetto tutta quanto una serie di realtà che avremmo potuto vivere anche in questo mondo. Ecco, e qui adesso facciamo un bel salto non indifferente in avanti perché cominciamo un attimo a vedere qualcosa dell'altro mondo. Il libro è da leggere perché sono tantissimissime cose. Allora, vado un attimo avanti un pochino nel testo, ritrovo i passaggi che ho segnato e che adesso leggiamo appunto insieme. Qui c'è quando sto scorrendo quando assiste al proprio funerale. Ci sono veramente delle cose molto, molto ci sono veramente molto, molto belle. Parla anche dell'importanza della santificazione del dolore perché il dolore c'è in questo mondo a causa del peccato non ci sarà nell'altro ma qui occorre santificarlo perché quanto più si santifica la sofferenza vivendola nella dimensione della croce quanto più si andrà più avanti eccetera. Allora ecco cominciamo un pochino a vedere qualcosa. Quante meraviglie nel paradiso a un certo punto sto a pagina 73 sono andato molto avanti eh dissi a Teneramata con una tristezza prossima all'invidia. è chiaro che la nostra immensa gioia assistendo a questi spettacoli viventi non ci permette di essere né satici né masochisti godere vedendo una carneficina o chiedere la morte perché a noi non è simpatico. Noi siamo sempre gioiosi e felici. Sì in verità sì immagino che non vi potete abbattere anche se contemplate un tristissimo spettacolo da far piangere la stessa statua di Nerone sentite ma comunque nel cielo non ci sono dei bar come qui e Teneramata risponde in verità non ci occorrono cambiare l'acqua in squisito vino è la cosa più facile nel cielo le nozze di cane e lo beviamo con piacere ma non per creare un ambiente cordiale perché già lo abbiamo né per averne la brevissima euforia già che la nostra allegria è sempre immense lo beviamo per il sapore squisito e il grandioso simbolismo mi riferisco naturalmente ai vini e liquori celesti parla di vino e liquori celesti ci avete mai pensato in paradiso qui dobbiamo stare attenti al vino e ai liquori perché in paradiso non c'è nessun problema sono buonissimi e non ci hanno avuto indicazioni non tu priachi la mia invidia trova un'altra obiezione sentite ma nell'aldilà non si balla come ne saranno i di qua sì che si balla ma molto meglio i ritmi dei motivi ballabili di questo mondo per forza devono essere adeguati alla cadenza degli spazi temporali normali della terra segnati dall'orologio l'orologio è la nostra catena che ci lega al remo della vita terrena noi siamo schiavizzati in questo mondo incollati all'istante presente che scorre tra l'altro in continuazione e da qui non ci possiamo liberare io non posso muovermi dall'istante presente né in avanti né in indietro scorrerà in continuazione arriverà il giorno della mia morte ma io non posso adesso fare un salto e andare al giorno della mia morte fino a quando sto nel tempo non si può fare né posso tornare al giorno della mia nascita posso tornare indietro con i ricordi con quelli che mi ricordo però ma sapete che noi non è che ricordiamo tutto il nostro passato allora i bali della terra quindi hanno questo limite un altro è che devono effettuarsi sul pavimento questo perché perché c'è la forza di gravità mica possiamo ballare stando per aria i nostri piedi stanno belli incollati per terra dispongono qui di assai poche cadenze tra l'altro ma nella patria la danza si fa dovunque non occorre un pavimento pulito e incerato per il dominio assoluto che abbiamo sulle forze gravitazionali possiamo ballare sulle cime delle cordigliere o sulla superficie o nelle profondità dei mari come negli spazi siderali immaginate è molto divertente ballare all'interno dei vulcani e non mi riferisco a quelli della terra poco attivi ma a quelli delle stelle più avanti potrai intuire l'ineffabile abbraccio delle coppie abbracci balli parlerà più avanti lo vedremo questo lo vedremo di baci compenetrativi sono forme d'amore e attenzione è tra beati è in particolare tra beati di sesso differente qui c'è le cose gli amori di cui parla lui lei a lui sono tutti quanti amori con con donne che ha conosciuto nella sua vita terrena e con cui è nata quella che te ne è amata chiama l'attrattiva dell'amore cioè quel particolare sentimento tutti lo abbiamo vissuto quella particolare attrazione che noi proviamo verso una persona una simpatia o anche diciamo una forma di affetto o di amore anche quando cerchiamo di mantenerlo pulito ma sappiamo bene quasi tutti questi in questo mondo non si possono compiere perché siamo tutti quanti interdetti ma nell'altro mondo si compieranno tutti si potranno vivere una bella notizia che però fa anche comprendere come qui siamo a zero e come mai siamo a zero amici cari perché qui siamo a zero perché io qui non posso immaginare perché io qui cioè sappiamo le norme ascetiche no e che devono essere sempre osservate sapete benissimo credo che lo sapete tutti quanti cioè che proprio una persona che è vergine ancora di più anche una stretta di mano come dire profonda specialmente con una persona di sesso differente anche se uno non ha neanche la più neanche la più remota come dire brividi reazioni e sensazioni inaspettate non c'è bisogno che spiego pur una stretta di mano figuriamoci il resto ecco perché nell'ascetica classica le norme ascetiche erano terribili contatti specialmente tra persone di sesso diverso zero quindi una vita proprio mortificata ma perché però perché adesso qui siamo segnati dal peccato originale e qual è come dire la ferita più grande che provoca il peccato originale è la concupiscenza la concupiscenza ossia l'impazzimento il risveglio facile della libido tutto qui tutto qui e per quanto tu possa essere santo per quanto tu possa essere diciamo queste cose mi fanno schifo non le voglio neanche non ci voglio neanche pensare sono ma non è possibile in questa vita cioè è possibile nel senso che una persona non ci vuole pensare non ci pensa e non le vive con l'aiuto della grazia di Dio ma se si mette in pericolo con tutta la santità e la buona volontà che ci possa essere non è possibile è interdetto è inibito non si può qui non si può però dopo sì ma se dopo sì ecco perché ho voluto aprire questa parentesi se dopo sì prima del peccato originale punto interrogativo sì o no e se il peccato originale non ci fosse stato non dico come un paradiso ma sarebbero state anche queste cose differenti in questo mondo punto interrogativo sono domande che dentro questo contesto cioè le faccio ma si capisce che sono domande retoriche ci sono una risposta obbligata ecco sentite qualche altra cosa dice però non avete stabilimenti balneari non andate al mare che bello il mare per esempio posso fare una confessione a me quanto mi piacerebbe andare al mare a me personalmente tanto mi piacerebbe andare al mare ma al mare purtroppo non ci si può andare cioè per carità opinabile come fa un consacrato ad andare al mare a parte con gli stili dove stanno oggi insomma no? che denudarsi è sempre una cosa un pochino anche quando non è non è una cosa integrale però è sempre una cosa un pochino particolare no? però specialmente poi oggi ma come caspita io mi chiedo come fanno ma anche tanti miei come dire colleghi di di mascolinità no? perché non è che se uno non è sacerdote può come dire guardare tutto e appoggiare gli sguardi dovunque no perché secondo la legge di Dio può guardare in un certo modo solo la moglie se ce l'ha il resto no quindi cioè analoge difficoltà potrebbe incontrare anche una persona normale insomma che si rega in certi posti no? però di per sé andare al mare è una cosa bellissima è bello andare al mare è bella la spiaggia è bello farse il bagno è bello perché sono tutte canticreature dell'altissimo la spiaggia l'ha fatta lui il mare l'ha fatto lui cioè il refrigerio che ci dà il contatto con l'acqua salina l'ha fatto lui quindi sono cose belle di per sé ma è l'ambiente in cui stiamo adesso che le guasta dice non avete stabilimenti balneari dice eh? risponde non come questi di qua superficiali e con decorazioni artificiali oppure profondi e pericolosi gli stabilimenti termali del cielo hanno l'incanto della natura pura altro che ovviamente non ci occorre fare il bagno le nostre anime glorificate eliminano attenzione la polvere il sudore dei nostri corpi ma tuttavia nel nuoto sentite godiamo e pericolosi la nostra vicinanza e nel presentire il gaudio che d'accordo con la sua natura gli procurerà il nostro contatto c'è un'altra cosa bellissima che dice tenere amata che i beati godono di tutto il creato ma che tutto il creato a modo suo gode del contatto con i beati ecco perché il creato tutto quello che Dio ha creato è un'altra cosa che si vede in questo testo e che per chi conosce gli iscritti di Luisa Piccarreta è una cosa ovvia non c'è niente di quello che Dio ha creato che viene completamente distrutto niente ma tutto ciò che Dio ha creato continua a vivere nella quinta dimensione dell'eternità creata vi faccio un esempio qualcuno di voi ci ha avuto per esempio un animale a cui è tanto affezionato è morto attenzione domanda può tornare nel nulla definitivamente una creatura che ha avuto da Dio l'essere e la conservazione nell'essere da lui provate a farvi questa domanda magari anche chi non sa niente di tenera amata di divina volontà di divina volontà quindi una cosa che Dio ha fatto torna nel nulla strana questa cosa qui non torna nel nulla amici il mio vecchio Rex ha vissuto 13 anni 12 anni non mi ricordo bellissimo pastore tedesco sapete adesso Rex dove sta nella sua carcassa nel tempo sta sotto un metro di terra di una cara persona che me l'ha seppellito ma Rex sta in quei 12 anni di vita terrena che si è vissuto vivendo ininterrottamente la sua eternità creata in quei 12 anni e sta aspettando che io muoia perché quando sarò morto io potrò tornare lì e riprendere il rapporto con lui attenzione ma da glorificato quindi lui godrà molto di più delle mie carezze e della mia compagnia e io viceversa potrò godere di più di lui perché comprenderò molto meglio il suo linguaggio il suo modo di amare e anche che cos'è non soltanto l'essenza canina ma la personalità peculiare di quel cane perché anche gli animali hanno una personalità peculiare chi ce li ha avuti c'è ricevuto tre cani erano tutti e tre pastori tedeschi ma tutti quanti diversi tra loro chiunque sta a contatto con gli animali lo sa benissimo la stessa cosa adesso capita con i felini sono diversi sono belli sono tutti quanti della stessa specie ma sono diversi ognuno è un unicum anche tra loro pur non avendo l'anima spirituale ricordate che anche gli animali dice te te ne ho amato sono stati pensati da Dio cioè il mio Rex scusate se faccio riferimento a era è stato creato da Dio per me e io sotto certi punti di vista d'accordo sono stato creato per lui cioè il rapporto che quel cane doveva avere privilegiato con come dire il membro della razza umana destinato ero io e viceversa sono cose queste a cui generalmente non si pensa mai ma queste sono sono cose a cui pensa il padre eterno capite cioè pensiamo adesso chi sta seguendo la diretta di questa di questa catechesi no è chiaro che c'è una un interscambio cioè noi stiamo vivendo amici noi ci siamo ritrovati in questo contesto storico io sono nato nel 71 non sono nato nel 1328 se fossi nato nel 1328 voi che state qui non mi avreste mai conosciuto in questa vita d'accordo ma come dire anche i rapporti che ci sono tra di noi anche i rapporti tra un sacerdote e le anime che in qualche modo nostro signore gli affida queste sono volute dal cielo queste qui capite cioè è tutto disposto dal cielo e dall'altra parte tutto viene perfezionato cioè si potrà vivere alla grande molto meglio che adesso in questo modo funzionano nel cielo riprendo la lettura la conoscenza e l'amore universale tutti noi esseri ci troviamo relazionati tra noi ci conosciamo ci amiamo e ci possediamo ineffabilmente nel cielo capito? ci conosciamo ci amiamo ci amiamo e ci possediamo ineffabilmente tenera a mano notò che io ero prossimo a crepare di invidia e di nuovo si ero collettita al dorso della mia mano e mi disse affettuosamente su non essere invidioso molto presto se davvero prendi sul serio il nostro Dio potrai tutto questo vedrai che significa essere un piccolo Dio per partecipazione del creatore altro che diventerete come Dio conoscendo il bene e il male qualcosa come un onnipotente in miniatura sono così i beati questo lo diceva già San Tommaso che nella beatitudine Dio ci partecipa le sue prerogative le sue attributi tra cui l'onnipotenza ma che potenza malgrado la piccolezza ma quale grandezza dentro la sostanziale non unità quanto immenso è l'amore con cui ci amiamo il nostro Dio il lieve d'occo di tenere amata mi vivificava e la sua celeste tenerezza mi faceva stare di eccellente umore se questi magnifici piaceri corrispondono appena alla guerra occidentale la guerra minore ma che saranno gli indicibili caudio della guerra essenziale comprendo che tu senta la nostalgia della beatitudine disse è la tristezza nobile e solenne dell'esule che sospira la patria eccomi io sono sempre triste in questo modo tutto il giorno tutti i giorni sempre però felicemente triste questa è una bella tristezza ma procura che sia un dispiacere costruttivo che ti muova a porre i mezzi per raggiungere un così elevato fine ti rifarai per una gloria futura delle fatiche che hai sofferto per ottenerla questo è lo scopo per cui siamo stati creati cioè voi capite come campo una persona di questo genere pensate anche la certezza di queste cose cioè io non non mi prendete per matto cioè se volete prendere matto prendete pure per matto quando vedo qualcuno che sta per morire non glielo posso di però lo penso dico ma come vorrei sta al posto suo ma beato questo è arrivato a finire cioè capite quando questa vita sarà finita ragazzi lì si comincia proprio a vivere io non ho nessun dubbio di questo voi pensate quando una persona ha questa certezza e tutti i figli di donna dovrebbero avere questa certezza ma come cambia completamente il modo con cui si vivono tantissime cose pensate a clima che non sono anche io come caspita definirlo che abbiamo vissuto da due anni a questa parte con l'incubo generalizzato con lo spauracchio della morte ma spauracchio di che di cosa noi siamo amanti della vita non è che siamo come dire masochisti o aspiranti suicidi ma la morte non è mica uno spauracchio la morte se io sono vissuto in grazia amando il signore cercando di osservare i suoi comandamenti pregando cercando di servirlo come posso ma io non vedo l'ora che arriva la morte e toccherà il po' del purgatorio speriamo che l'ho fatto un po' qui se tu hai santificato il dolore hai fatto un po' di penitenza o un bel po' di penitenza e poi soprattutto se desideri tanto il signore ci sono molte possibilità insomma che non debba essere una sosta troppo impegnativa ma noi non vediamo l'ora un cristiano che ha paura della morte ma che razza di cristiano è io mi chiedo che cristiano è noi siamo stati creati per godere Dio e per godere in questo modo non per stare qui in questa valle di lacrime a che cosa ti godi in questa terra che ti godi le briciole quattro quattro piaceri i grandi peccatori che fanno schifo e che manco sono cominciati che già sono finiti tutto qui guardate a un certo punto gli dice gli aveva fatto vedere l'incontro di lei con sua madre dice hai notato come ci siamo date la mano per salutarsi dice no non ci ho badato non ci siamo salutate con la mano come fanno i pellegrini mortali le nostre mani si compenetrarono e si fusero in una sola senza però venir meno la loro individualità sentite che dice si unificarono intimamente in mezzo a un godimento magnifico pelle con pelle sangue con sangue muscolo con muscolo si interpenetrarono senza rompersi senza farsi del male senza confondersi si carezzarono con fruizione cellule con cellule protoplasma con protoplasma attraverso le nostre mani la mia mamma e io abbiamo realizzato una compenetrazione di amore celeste ci comunichiamo curiosamente e ci godiamo moltissimo serve aggiungere altro questa è una cosa molto fisica la compenetrazione cellule con cellule protoplasma con protoplasma pelle con pelle sangue con sangue dice per poter immaginare che cos'è il saluto nella gloria futura ti conviene di ricordare due qualità del corpo glorificato San Tommaso d'Aquino la sottigliezza o piena sottomissione del corpo umano allo spirito e l'impassibilità o assenza di dolore inoltre la materia è eccessivamente porosa è fatta quasi di spazi vuoti qualcuno ha detto che se la materia fosse compatta tutto il genere umano entrerebbe in un di tale queste proprietà permettono che nel saluto celeste le mani si interpenetrino e si fondano come se si trattasse di una sola mano ma senza farsi del mare né disordinarsi perché ogni essere nell'essenza è indipendente dagli altri provate un attimo adesso facciamo un reverse i due saranno una sola carne significa necessariamente l'unione sessuale punto interrogativo sentendo queste cose capite gli orizzonti possibili che aprono queste cose non significa necessariamente queste cose la prossima volta non finiamo oggi non ce la facciamo leggeremo proprio il passo in cui tenere la mano dice in paradiso il sesso non c'è perché non ci servono cose così basse non ci abbasseremmo a questo ci abbiamo altro a cui pensare cose molto molto più elevate piaceri molto molto più nobili e profondi e molto più intensi affascinante dice lui questa è dunque la compenetrazione celeste che la mia bella morte mi aveva annunciato incominciai a comprendere attenzione la prossima volta quella del bacio compenetrativo che dà anche il nostro signore Gesù Cristo detto fra me e voi e anche la madonna voi capite quando uno legge queste cose poi torna indietro per esempio è noto molti si scandalizzano che Luisa Piccarreta Gesù la baciava ma come mai che la baciava perché mia interpretazione personale Luisa Piccarreta vivendo nella divina volontà aveva recuperato la condizione protologica di Adam e Eva prima del peccato per cui anche in questo mondo anche in questo mondo dove ti pare che si potrebbe fare una cosa del genere assolutamente no ma per lei si per lei si è da parte del nostro signore perché ha recuperato la condizione in cui questa cosa si può fare come dire senza che questo appaia come un gesto come dire sapete che il bacio profondo è il principio qualcuno lo chiama il principio di un atto sessuale principio remoto chiaramente no però ecco non è un atto che noi possiamo c'è non è un atto che si può fare così in questa vita assolutamente in questa vita però nell'altra vita no e nella vita prima del peccato originale punto interrogativo se gli davano i baci Adam e Eva vogliamo fare proprio una cosa o si stavano a guardare in faccia come Beatrice e Dante Alighieri siamo proprio concreti mo l'ho detto ok mi è sembrato che voi non avete parlato dice quindi basta la direttevole intercomunicazione del bacio tra due anime dice sentite che dice e chiudo osserva che sulla terra il saluto di mano il solo tocco e la stretta di mano è una manifestazione terrena dall'istinto della gloria futura perché è una nostalgia del piacevole saluto celeste lui la stretta di mano che vi fa pensare alla stretta di mano che è stata è stata interdetta per tanto tempo manifestazione terrena dell'istinto della gloria futura e nostalgia del piacevole saluto celeste quanto è bello stringere la mano ma se questo saluto del cielo non si conosce nel mondo dice lui la coscienza lo ignora noi non sappiamo come si salutano le persone celeste ma l'anima spirituale che non è la nostra coscienza che ne dicevano i filosofi da cartesio in poi l'anima spirituale che tutti abbiamo essendo radicata nell'eternità creata ed essendo fatta da dio ed essendo la forma sostanziale unificatrice di tutto l'essere umano sia nello stato di viatore che in quello di comprensore lo intravede da lontano e lo sospira l'istinto della loro futura già da cioè quando tu stringi una mano e sta dicendo tu non ne hai coscienza molti ne hanno sentito adesso questa cosa qui ma l'anima spirituale avverte sente che quel piccolo gesto che comunque procura un diletto diventerà qualche cosa di impressionante nell'aldilà e nell'eternità creata bene dobbiamo fermarci perché abbiamo sforato anche l'ora è troppo quindi troppe ghiacchiere fanno sempre male la prossima volta andiamo un pochino avanti leggendo qualche altro stralcio perché credo che queste cose aiutino l'edificazione di tutti la comprensione in parte di quello che ci siamo perduti sulla terra però che potremo recuperare in cielo Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegge